Salve a tutti ragazzi e ragazze, sono Diego Super3 Oggi siamo in un nuovo video in cui volevo andarvi a far vedere come guardare tutti gli episodi di One Piece per la seconda volta Perché lo scorso video, quello che feci tipo due anni fa, aveva qualche problemino, per esempio non avevo messo il link E molti si lamentarono sotto i commenti, però c'era un motivo perché non avevo messo il link Infatti, il motivo è perché in pratica quel sito lì si aggiornava di volta in volta, no? E in pratica io non potevo mettere sempre il link e aggiornarlo perché non mi sarebbe tornato Quindi adesso ho trovato un nuovo sito, sempre di One Piece, dove potete guardare tutti gli episodi gratuitamente, i streaming Questo sito si chiama, vabbè, in pratica questo sito basta che voi cercate One Piece Non forum, One Piece streaming E è il primo proprio qua che vi capita, questo ve lo posso pure mettere, tanto, cioè al fine, basta, fa così Non so se ci sono tutti gli anime, perché qua, se vedete, se andate su anime, eh esatto, ce ne sono tipo un botto Però non so se sono tutti in italiano, appunto, vedete, tipo Death Note, non so se è in italiano, vedete E però, il bello è che ci sono tutti gli episodi, infatti qua ci sono tutti gli episodi, dal primo all'ultimo Ovviamente alcuni no, ok? Alcuni no Si arriva fino all'ottocento e qualcosa, perché ovviamente sono tanti nel senso Infatti è quello qua, vedete, anche di più, si arriva sotto all'ottocento Però gli ultimi, tipo quelli da 875 da, tipo, credo, non lo so, perché non li ho visti io tutti Però molti sono sottotitolati in italiano e non in italiano Invece io ho visto, tipo, il primo che è in italiano Comunque, anche se è sottolineato, uno ce la fa a leggere, nel senso, almeno che non sapete leggere ancora Ce la fate tranquillamente Se volete vi faccio anche vedere, basta che mettete riproduci, streaming E qua, premete qua, e l'anime parte One Piece Ok, meglio di no, se no, qui, il rape Comunque, come vedete, funziona Mettete qua Si vede in fullscreen Qui purtroppo ce l'hanno delle barre nere e l'hanno zappato così Ma comunque si può vedere tranquillamente E, boh, nulla Questo era un piccolo video per farvi vedere Come guardare One Piece La seconda puntata, ecco E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video Bella, ragazzi